Massimiliano Varrese, determinato a proteggere se stesso, non permetterò a nessuno di rovinarmi. Massimiliano Varrese ha riaperto la lotta contro Beatrice Luzzi, nel Grande Fratello. L'attore ha espresso la sua ferma volontà di non tollerare intrusioni o rappresentazioni false della sua persona. Neanche durante il periodo natalizio si placano le tensioni tra i concorrenti del Grande Fratello, molti dei quali continuano a covare rancori nei confronti di alcuni coinquilini, arrivando persino a pianificare azioni tese unicamente al raggiungimento della vittoria. Massimiliano Varrese sembra essere uno di coloro che, agli occhi vigili dei fan del programma, sembra nutrire risentimento nei confronti di Beatrice Luzzi. Le dichiarazioni di Massimiliano Varrese, desideroso di parlare con l'ex compagna Monia La Ferrera, l'attore ha espresso la sua determinazione a modificare il suo atteggiamento per evitare di essere influenzato dalle decisioni altrui. Sebbene in modo implicito, il riferimento sembra essere a Beatrice Luzzi, recentemente tornata nella casa più seguita d'Italia e oggetto di controversie e scontri. Pertanto, Massimiliano Varrese ha affermato, Non qui, prenderò un'altra strada. Non permetterò più a nessuno di distruggermi. Ci sono molte cose che devono essere sistemate. Se sento ancora conversazioni simili nelle orecchie, tornerò ad essere il vecchio Massi. Non sarà più il vero me. Il primo è solo un personaggio. Questo è il vero, quello che adotta un tono differente. Ci sono molte esigenze, non solo le mie. Sostegno di Signorini a Varrese. Tuttavia, queste parole hanno generato ampio dissenso sui social, in quanto Varrese è stato percepito come una figura pericolosa e aggressiva. Numerose persone, incluse celebrità, hanno espresso preoccupazioni in tal senso. Alfonso Signorini ha cercato di placare le polemiche, sostenendo che il concorrente del Grande Fratello non corrisponde alla rappresentazione offerta sui social, dove viene dipinto nella sua peggiore versione, quando in realtà sta interpretando un ruolo. Inoltre, prima del Natale, in varie occasioni, Signorini ha richiamato Varrese per il suo linguaggio, e l'attore stesso ha ammesso di essere in una sorta di recitazione.